Brrrrriiii Chiedi bui chiedi bui torni sui sui minecraft Ragazzi siamo tornati nella project Non è vero siamo tornati nella sky factory Sono tornato nella sky factory Sono troppo fissato con la projecturozone ragazzi No questa è la sky factory 4 Sky factory 4 Mettetelo in testa siamo in episodio 8 Penso Siamo in episodio 8 dai Sky factory 4 Allora ragazzi mi sono fatto un full set di diamanti Intanto i diamanti avete visto Ormai non sono più un problema perché prendi questi qua, fai pim pim, hai questi cosini qui, e poi facciamo così zang, uuu e ti fai nove diamantolli che li buttiamo qua che comunque abbiamo 18 diamanti in totale, non male, allora ragazzi io sono già andato nel nether adesso lo faccio vedere giusto per sperando di non morirci, però nel caso metto immediatamente pacifica perché ci ho messo un'internità ho fatto tre vie di arrivo ho fatto una che va alla fortezza una che va lì, adesso la faccio vedere cosa c'è da qui, e una che va anche lì sopra io ne sta datemi un secondo solo ok no, quel blaze lo so ragazzi, sono un pipone ma scusatemi, perché devo andare a ammazzarmi ho fatto qua, io ragazzi ho lasciato questa distesa gigantesca cioè ragazzi, non è pazzesca, ci sono le distese gigantesche di 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 clay ma era pazzesca noi ogni frattempo ce ne torniamo su portals e sono c'è a casa ho preso un po' di un po' di clay un po' di clay, un po' di nether quartz tipo due stack, due stack, quasi tre stack ho preso un po' di glowstone e non ho preso, non ho preso purtroppo non ho preso le le blaze road quelle lì dovevo farle più avanti poi mi stavo organizzando e su qua non ancora voglio fare oggi insieme a voi mi stavo organizzando per fare una mob farm una mob farm qua ogni volta non so per quale motivo mi parte sto open world cake non ho mai capito per quale motivo però lasciamo perdere allora questo qua per adesso lo lasciamo qui andiamo a fare il fulcro per 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 la mob farm mi serve un grinder un grinder il grinder si fa abbastanza facile si fa con diamanti blocco d'iron blocco di redstone iron spike e iron quindi un botto d'iron veramente un botto d'iron io ce l'avrò con tanto iron non credo di avere con tanto iron quindi nel caso ragazzi ci vuoi niente andiamo a cercare dovrebbe essere in fondo a memoria questo qua è l'iron iron sapling come si fanno con questo con tutte e due quindi prendiamo questo 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 prendiamo ok ho quello tutto ho anche un po' di legno qua le rete io non capisco perché c'è perché le c'è si vaggano oh e chiudi cavolo ma poca è quella vacca andiamo qui nella crafting table facciamo e ci facciamo altri qua due pezzi di di iron mettiamoli a cuocere nel frattempo ci facciamo un po' di questo così riempiamo qua controlliamo per sicurezza magari non ho qualcosa che avanza qui dentro non credo da avere niente che mi avanzi qua no qua no qua no qua no qui c'ho del cibo non ancora fatto qua non c'ho niente qua c'ho un botto di cobblestone secondo me un botto mi sono messo qua come un idiota fa parmi cobblestone ci ho messo tipo credo 40 minuti più o meno vabbè iniziamo a fare cose che possiamo fare di certo mi servono abbiamo detto due spade di diamante due spade più tre quindi sei otto spade vabbè otto spade le facciamo non è un problema quindi otto spade vuol dire vuol dire così vuol dire fare questo quindi prendiamoci un po' di sticchettini poi sticchettini facciamo così e pam otto spade poi un blocco d'iron fattibile poi iron spine mi siamo altri due blocchi d'iron quindi scusi ok altri due blocchi d'iron perfetto facciamo le spike quindi una spike e due spike ma mi servono tre diamanti e un blocco di redstone allora i diamanti quanti ne ho detti tre diamanti quindi un due tre il blocco di redstone ce l'ho ne basta uno solo ragazzi se non mi ho fatto vedere come si fa la redstone ragione troppo facile facile andiamo nella redstone e facendo così prendendo le nove di questi mi da un blocco di redstone molto facile dovremmo avere tutto quanto tac perfetto ci prendiamo un po' di cobblestones e ci facciamo qualche leva che però ho finito già i stick ma mannaggia di quella vacca ma dove sono i stick scusatemi stick ragazzi voi li vedete i stick sono qua dentro ma dove li sto mettendo mi sono qua sopra no non capisco vabbè fa niente allora dicevamo stick ah li ho li ho di stick eeeh la leva leva che non si fa così le leve facciamone eeeh ma una adesso basta poi i fan i fan esistono i fan in questo map i fan si fanno con la stone iron ancora e la redstone ripeto adesso ripeto e posso farlo quindi facciamoci prendiamoci altra redstone sta bolla qua buggata veramente mi dà un pastiglio chiuditi mannaggia la spacchettiamo e ci facciamo i fan dicevamo ci facciamo un po' di torce facciamone 12 torce così poi 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 fan 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 ho perso fan fan così mi serve la stone proprio va bene dovrà avere la stone a qualche parte stone stone ok uno stack di stone quindi io vorrei vorrei farli precisi ragazzi vorrei farli precisi precisi io posso tornare indietro per essere precisi mi servono uno vabbè oddio uno due tre quattro cinque secondo me con cinque dovremmo cavarcela penso non lo so sinceramente ha bisogno del resto questo qua no non ha bisogno del resto quindi fan facciamone cinque ok facciamo così e cinque pezzi perfetto e poi mi servono ovviamente altre leve che non so dove siamo finite le mie leve ma scusi mica avevo fatto delle leve dovrebbero bastare oh andiamo a vedere allora 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 mettiamo i fan li mettiamo qua però mi serve una crafting table al volo la piacciamo qua ci facciamo un altro po' di slabettine per sicurezza e ci allarghiamo di uno perché non voglio morire male qui c'è un nuovo ci fa un nuovo qua voi lo sapete no io lo so no non è un problema abbiamo un nuovo proprio a caso spawn mob oddio metti una torcia qui e una torcia qui allora i fan se li metto qui ovviamente al contrario vanno messi no va bene va bene allora un fan poi no io non volevo metterli qua volevo metterli così pari così pari ah un fan poi un fan va qui e un fan va qui mettiamo un fan qua e un fan qua poi un fan lo mettiamo qua no non qui lo mettiamo qua sopra ok e un fan lo mettiamo qua sopra perfetto perfetto abbiamo cobblestone per chiudere si chiudiamo qua chiudiamo qua chiudiamo qua chiudiamo qua chiudiamo qua e chiudiamo qua qui chiudiamo qua ci siamo togli questa e dov'è eccolo qua il cicciopuzzo cicciopuzzo lo mettiamo lo mettiamo che guarda rivolto verso l'interno quindi così no così no uno in più così ok qui mettiamo andiamo giù di uno annaggia 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 io come faccio a scendere di uno senza diciamo così mettiamo una torcia andiamo poi al volo un po' d'acqua acquetta non mi va di rischiare la morte per mettere un codo mettiamo un pezzo d'acqua ok vai corri 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 lo piazzi qua questo qua lo metti qui e qui con i sali please grazie mille molto gentile ok mettiamo questo qua mettiamo una slab una slab no non una slab no sì una slab una slab ma io devo farmi una devo farmi un'ascia togliamo questo ok qua mettiamo la leva così così questo gira perfetto poi mettiamo un'altra slab qua quindi lo chiudiamo mettiamo questo togliamo la la torcia la riprendiamo ovviamente e facciamo zan 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 la torcia che vada ok mettiamo questo mettiamo questo ragazzi qua potenzialmente dovrebbero spanare mob allontiamoci un po' e vediamo la minimappa adesso i mob sparano e sta morendo ma i mob stanno morendo per moremo ma che rumore fanno i mob ma ragazzi ma vuoi per esempio il mob fare il suo rumore deve essere aperto no deve essere aperto è una bella fregatura che deve essere aperto ragazzi è una bella fregatura che deve essere aperto questo coso per funzionare mannaggia e chi si aspettava che dove fosse essere aperto e dovrei fare così dove fai così dovrei aprire questo questo e questo ok facciamo così 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 poi come faccio chiudere tutte cose no ah no una volta non muoio oddio non so se muoio addio ragazzi per il pesce vabbè sono morto però sono finito stavolta a casa mia ragazzi è da migliorare però può dare soddisfazioni secondo me può dare soddisfazioni io ragazzi vi ringrazio vi ricordo di commentare se mi piace con i miei video iscrivetevi attivate la campanella questo vi saluto come al solito addio ragazzi vi ringrazio vi ringrazio ciao 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 Grazie a tutti.